Ma oh, tuo figlio, mo' che fa? Tio figlio si è sistemato. Oh, finalmente! Siamo soddisfatti finalmente, un tempo ci è voluto, però alla fine ogni persona viene anche premiata. Io lavoro... Io sono soddisfatto, come padre sono soddisfatto. Guadagna bene, sì? Sì, sì, sì. Un'unica cosa che ha un lungo periodo, diciamo, di disoccupazione stagionale, però, un lavoro così. Lungo periodo? Di disoccupazione stagionale? Eh sì. Perché? Che fa? In poche parole, lui vende i rami di olivo fuori dalla chiesa la domenica delle palme. Ah. E qui sta fermo 364 giorni? Eh sì, ma l'altro è un giorno lavoro. Eh, ma sì. No, ma l'altro è un giorno lavoro. No. Ma l'altro è un giorno.